E' giovane, c'ha pure due belle cosce. Eh sì, c'ha due belle cosce. Io so il fratello di quello che è uscito adesso, i tuoi fratelli anarchici. Quando il sole l'ha venito... Che siete voi? Anarchici della morte. E quando sarete grandi cosa farete? Ammazzare. Beh, beh. Beh, beh. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.